Musica Amici di Teleponte buongiorno ben svegliati oggi martedì 29 gennaio siamo dunque nella piena fase più fredda della stagione nei giorni della merla c'è chi dice che sono 28, 29 e 30 gennaio chi invece 29, 30 e 31 sta di fatto che questa mattina c'era ghiaccio e c'era un bel meno uno per quanto riguarda la temperatura dunque piuttosto freddo prima parte dedicata ai quotidiani come sempre nella seconda parte avremo Claudio d'Archivio tutti lo conoscono perché a Giuliano è stato anche presidente del Colleranesco sino a portare la squadra ad affrontare il campionato di promozione a sfiorare non solo, ad avere anche un importante settore giovanile un uomo che tra l'altro opera anche nel mondo della cultura non solo in quello sanitario come tutti insomma sanno con lui ci faremo una bella chiacchierata proprio per quanto riguarda il mondo dello sport i giovani, l'impegno delle società, l'aspetto anche fondamentale della cultura visto che lui ha contribuito a finanziare un'opera letteraria creata, voluta dallo storico Giuliese Sandro Galantini il buongiorno arriva anche da Gilberto Marinozzi questa mattina in regia allora andiamo subito a sfogliare la prima pagina del quotidiano il centro, c'è il titolo alto Alessandrini, i martiri del terrorismo Pescara, 40 anni dall'uccisione del magistrato venerdì un convegno con i figli delle vittime Emilio Alessandrini venne ucciso a Milano a soli 36 anni e il papà era il papà di Marco Alessandrini il sindaco di Pescara Acqua, c'è un piano da 171 milioni di euro e la somma stimata dagli enti per la sicurezza del sistema Gran Sasso la fotonotizia, il blackout informatico mette in crisi gli ospedali ci sono difficoltà ovvie e chiare per quanto riguarda i centri unici di prenotazione Sul Mona centrodestra verso il vuoto Giorgia Meloni e Marsilio il punto nascite non chiuderà poi a Chiedi 5 Stelle Sanità arriva Giulia Grillo per Sara Marcozzi a Teramo, restiamo a Teramo adesso isole ecologiche entro giugno nelle frazioni Giovane Di Silvi perde un dito sull'autobus verrà risarcito 9 mesi a Di Nicola Ercole Di Nicola truffa baby calciatore ci sono state due condanne andiamo all'interno e c'è lo spazio ampio dedicato proprio al giudice Emilio Alessandrini martiri del terrorismo Alessandrini 40 anni dopo venerdì come dicevamo in tribunale a Pescara convegno con i magistrati e figli delle vittime il giudice Spadaro ricorda accorsi subito ero disperato in lui era maturata la convinzione che la nuova eversione avesse a che fare con trame di apparati dello Stato fu colpito da un commando il figlio Marco il sindaco di Pescara papà era un uomo di Stato ha lasciato un vuoto ricordo bene mia madre che mi informò della sua morte se ho fatto l'avvocato lo devo anche un po' a lui non coltivo sentimenti di vendetta dice Marco Alessandrini ma con i suoi assassini non voglio avere a che fare ovviamente come dargli torto ogni anno prima di Natale portava il panettone ai centralinisti ciechi del Palazzo di Giustizia sfogliamo ancora le pagine del quotidiano il centro che ovviamente dà spazio alle prossime elezioni regionali quelle del 10 febbraio sanità il ministro Grillo in Abruzzo per Sara Marcozzi domani sarà a Chieti per presentare il programma di governo del Movimento la candidata presidente imita Murigno Marsilio e Legnini zero titoli Stop Iper lo chiede Confcommercio l'associazione Strappa e Lessida tre candidati presidenti nell'incontro di Pescara verso le regionali ancora Civici e Popolari Legnini Labruzzo riparte grazie ai suoi quattro porti Pescara, Vasto, Ortona e Giulianova le proposte del candidato presidente la priorità è il dragaggio ognuno degli scali dovrà avere la sua vocazione anche perché si tratta di porti differenti l'uno dall'altro orari flessibili per le donne in politica i candidati firmano il patto della commissione pari opportunità proposti incentivi e servizi sanitari saltiamo no, questa la leggiamo il centro oggi dedica tre pagine alle elezioni Marsilio Meloni Sulmona manterrà il punto nascite l'impegno è quello di correggere la legge Lorezzino sugli ospedali abruzzesi e poi mostrano la maglietta con il codice che identifica i nati nella città Peligna la leader di Fratelli d'Italia fondi per ricostruire per il candidato presidente serve una legge sui disastri naturali Flaiani e Di Stefano domani a Lanciano e San Salvo ovviamente proseguono gli appuntamenti dei politici la corsa in pratica ad accaparrare gli ultimi voti soprattutto quelli degli scontenti ovvero quelli che non vanno a votare l'Abruzzo tutela della fauna il parco festeggia 11 cuccioli d'orso i nati nel 2018 sono un risultato positivo in linea con l'ultimo triennio il presidente Carrara ma non abbassiamo la guardia vedete le foto dei cuccioli dell'orso marsicano a Teramo rischi nel Gran Sasso il piano per l'acqua sicura servono 171 milioni il frutto di una concertazione fra gli enti e in una bozza di delibera che la giunta regionale potrebbe approvare a giorni le opere previste nei laboratori ammontano a 14,5 milioni di euro quelle nell'A24 a 104 l'Ersi dovrà realizzare un potabilizzatore da 53 per qualsiasi evenienza durante i lavori 53 milioni di euro ovviamente e c'è il presidente vicario della regione Giovanni Lolli ancora sulle pagine di Teramo il blackout informatico che sta interessando da alcuni giorni la ASL di Teramo computer in blocco ospedali paralizzati fino a ieri sera programma fuori uso oggi riunione per una strategia alternativa a Nao ci voleva un sistema di sicurezza la Venice raccolti 1000 euro per attivare il numero verde cena Nao per il centro antiviolenza e poi all'Alessandrini Marino apre la biblioteca digitale c'è la fotonotizia con i ragazzi dell'istituto ex manicomio progetto da modificare era prevista un'area per il Braga che tornerà nella storica sede il sindaco confrontiamoci su cosa fare in quello spazio a Prati di Tivo finalmente si scia oggi riapre la pista intermedia via gli abbonamenti per i residenti in provincia ricordiamo che un paio di settimane fa c'è stato l'affidamento all'imprenditore Marco Finori che ha avuto adesso la gestione degli impianti di Prati di Tivo gli architetti chiarezza sul teatro romano bene la condivisione popolare del progetto ma nel rispetto del lavoro dei tecnici l'ordine interviene nel dibattito chiedo scusa sull'opera sindaco e assessore incontro con i cittadini a Villa Tofo processo ex tercas tutto da rifare a Roma cambia il giudice si ricomincia dopo 43 udienze 50 testi già sentiti davvero questa è una barzelletta entro giugno alla via le isole ecologiche si partirà dalle frazioni archiviando così il porta a porta spinto a breve arriveranno anche i bidoni condominali comune aperti i termini per il rimborso dei libri di testo raccolta del vetro la tema ricorda che sarà ritirato solo se conferito nel mastello la questura ricorda la figura di Palatucci giornata della memoria Palatucci che è stato l'ex questore di fiume che ignorando le leggi razziali ha consentito ha permesso di salvare tanti ex tanti ebrei durante il periodo fascista la seconda guerra mondiale il periodo della seconda guerra mondiale il processo truffa al baby calciatore chiedo scusa truffa al baby calciatore condannato di Nicola nove mesi all'ex dirigente dell'Aquila Calcio e a un procuratore di giocatori incassarono i soldi dei genitori ma il ragazzo non poteva essere tesserato detenuto morto disposti gli esami tossicologici coltellate ai due amici dopo la lite in auto Pineto feriti lievemente un uomo e la sua compagna un trentenne denunciato per lesioni Salvini altri due giorni terramani sabato e domenica sarà Giulianova Campli Sant'Egidio e altri Giorgia Meloni parlerà in piazza il 7 di febbraio il leader nazionale di Casa Pound di Stefano è atteso giovedì 31 verso le regionali i candidati locali la Val Vibrata ha bisogno di lavoro De Simplicio Maloni Monardi e Rapali concordano sulla necessità di incentivi alle imprese per rilanciare il territorio soprattutto l'area vibratiana di Stanislao il ritorno le mie idee per turismo sanità e industria serie tv del liceo d'annunzio leggiamo questa notizia un attimo di pazienza eccoci qua Corropoli a produrre Nemesis saranno gli studenti ripresi al via febbraio oggi il progetto va all'USR Ponzano un passo in avanti per la messa in sicurezza siamo a Civitella del Tronto andiamo sulla costa vibratiana blizza all'alba l'ANAS taglia altri sei tigli riesplode la protesta Martinsicuro amministratori ambientalisti insorgono c'era un tavolo aperto e la società non ha fatto niente a Tortoreto i balneatori chiedono di pesare di più e poi pista ciclabile lungomare sia ai lavori ma solo nel 2021 siamo ad Albadriatica attualmente tutti gli sforzi sono concentrati sulla realizzazione della nuova scuola media già nel 2020 è previsto l'inizio della ristrutturazione della Bambinopoli che rischia di essere inghiottita dal mare sempre ad Albadriatica 80 lunni a lezione con i pescatori il pesce in pratica il mare nelle scuole e l'importanza del consumo del cosiddetto pesce povero saltiamo l'inserto lavoro del quotidiano il centro che trovate chiaramente in ericolo andiamo a Giulianova ospedale la chirurgia può ripartire venerdì arriva il quinto anestesista in appoggio da Atri ma un anno fa erano nove ai tempi d'oro ben undici noi verso attacca il commissario il soldato dovrebbe astenersi dal firmare atti politici e poi sempre a Giulianova un corso per favorire le adozioni riservate alle coppie comincia oggi e durerà fino al 31 gennaio in sala Buozzi gli alunni inscenano l'olocausto letture musica e scenografia alla pagliaccetti alla De Amicis in occasione della giornata della memoria intanto Silvio Pomante resterà per due anni direttore del polo museale di Giulianova siamo a Roseto aria verde affidata al presidente dell'Ada e poi stage in comune per aspiranti geometri la notizia principale riguarda il bike sharing il comune va all'affidamento diretto ce ne siamo occupati anche noi un paio di settimane fa l'anno scorso i due bandi di gara andarono deserti e il servizio non fu attivato l'assessore Petrini a breve l'avviso per una manifestazione di interesse si torna a parlare anche di tassa di soggiorno sempre a Roseto ho chiesto il rinvio del vertice di oggi l'iniziativa è di Roseto in coming del presidente Giuseppe Olivieri altre associazioni pare vogliano partecipare in mattinata la decisione e poi sono altre notizie un gruppo di amici Pulisci e la Renile a Cologna Spiagge e poi Palazzo del Mare sala piena per l'incontro con Legnini altre notizie siamo a Silvi Pineto Atri un dito amputato sull'autobus va risarcito il tifoso di Silvi il giovane è rimasto con la mano schiacciata tra le portiere durante una trasferta del Pescara a Foggia l'azienda di trasporto condannata a pagare 5500 euro c'è un ricorso di colpa c'è un concorso di colpa del ferito ad Atri nuovo incontro sul progetto di albergo diffuso a Silvi Piazzanenni via Alberi a Juole nel vivo i lavori per ristrutturare l'area con un nuovo fondo stradale Pineto Bad Boy il racconto sulla Shoah la terza A della Giovanni XXIII ha vinto il concorso del comune e poi ad Atri mille alla presentazione della candidatura di Gabriele Astolfi l'ex sindaco leggiamo velocemente le notizie principali dalle altre province vaccini ecco il centro per 100.000 cittadini taglio del nastro nella sede di via Paolini con i vertici ASL medici e infermieri i ragazzi del clown doc che hanno animato la festa un pescarese nel tornado di Cuba sto bene ma c'è il finimondo Montesilvano in seguimento con arresto in diretta sospetto spacciatore fugge alla vista dei carabinieri ma viene raggiunto e bloccato sul corso sotto gli occhi dei cittadini e c'è anche la sequenza della cattura dell'uomo udienza a Chieti il caso in aula lascia il figlio a casa ed esce il papà finisce sotto processo il bimbo di 7 anni resta solo nella notte quando si sveglia non trova nessuno e scappa a casa dei nonni l'uomo un 33enne teatino denunciato dalla ex moglie ora è accusato di abbandono di minori andiamo all'Aquila davanti al tribunale indaga la polizia intimidazione all'avvocato delle donne bucate le 4 gomme dell'auto di Simona Giannangeli presidente del centro antiviolenze la seconda volta in 10 giorni andiamo a leggere le notizie di sport saltiamo l'inserto della cultura velocemente eccoci qua Pescara terzo posto e polemiche il monito di Sebastiani a pillone il caso machine la brutta prova a Livorno lascia strascichi pesanti ieri intanto c'è stato il posticipo tra Verona e Cosenza è finita 2 a 2 con il Cosenza che ha rimontato due gol nel finale Polac Polac si presenta io un soldato al servizio del Teramo il difensore felice per il debutto Celli fuori 20 giorni Di Matteo si scusa oggi Campitelli dal comitato etico a Roma Di Matteo sarebbe l'imprenditore disposto ad entrare in società la marsicana di Giulio va in Turchini a volley la schiacciatrice lascia Filottrano e dice sì al club campione d'Europa la sieco in ansia per Simone altre notizie atletica di Giovanni dell'Aterno brilla sui 400 metri e poi Veloclub San Salvo brinda i 15 anni di attività parliamo di ciclismo la serie D invece Francavilla arriva Natale su Liguori c'è il Cittadella i giallorossi sono vicini al portiere del Teramo e puntano all'attaccante Fagioli sul talento del notaresco in rompe il club Veneto il Pineto intanto anticipa a sabato Trovarello troppi mugugni dalla tribuna eccellenza il DS del Chieti la squadra va solo elogiata agli errori colpa del campo poi c'è la pagina dedicata alle formazioni giovanili delle società abruzzesi andiamo a leggere le notizie che riguardano il basket eccola qua parliamo del Roseto un attimo di pazienza eccoci qua capitano degli Sharks è la partita del cuore Pieric un forlivese teatel derby non basta Coen possiamo migliorare Guiet ringrazio i nostri splendidi tifosi che ci hanno dato una grande spinta domani sera ore 21 di nuovo in campo in casa contro Civitanova Marche poi altre notizie i presidenti tracciano la rotta di Fabio l'amatori guarda al mercato riusciti dell'Adriatica preso ora due gare alla nostra portata bene tutto per quanto riguarda questa prima parte della rassegna stampa tra poco andremo a sfogliare Messaggero e la città riprendiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano il Messaggero vi ricordo che nella seconda parte avremo l'ospite il dottor Claudio D'Archivio iniziamo dalla prima pagina del Messaggero Legnini riparte dai tribunali il candidato del centro-sinistra ho già salvato Vasto dai tagli della Severino ora gli altri la Marcozzi i miei rivali hanno zero titoli la Meloni con Marsilio non ci sarà partita operazione Evelyn sotto sequestro abitazione un bar a San Salvo sigilli a beni per un milione e duecentomila euro colpo al clan già decimato dagli arresti Montemagnolo ambientalisti contro le nuove piste da sci e poi truffa al giocatore condannato ex DS si tratta di Ercole di Nicola con l'avvocato libera da meglio Legnini la mia lotta per salvare i tribunali ci sono già riuscito una volta litigando con la Severino per Vasto questo presidio giudiziario è ora cruciale per il territorio Marcozzi gli avversori di zero titoli per governare la Meloni stiamo crescendo alle elezioni non ci sarà partita Pescara controlli serrati sui comitati elettorali piano speciale della questura dopo la catena di vandalismi contro sedi di candidati partiti e sindacati su cui indaga ora la Digos Emilio Alessandrini 1979-2019 dopo 40 anni Spataro vi racconto il maestro dell'amico 40 anni fa il giudice pescarese veniva ucciso dai terroristi di prima linea ero giovanissimo con il suo aiuto affrontare il processo alle Brigate Rosse la mano di Pertini sul capo di Marco pubblico e privato si intrecciano nel ricordo di tempi cupi e sanguinari Pescara Abruzzo solidarietà senza confini finanziati 5 progetti internazionali di enti di solidarietà con base a Pescara all'Aquila vigili del fuoco pazienza finita siamo pronti alla mobilitazione aumentano le tensioni sulla ricostruzione dell'edificio destinato alla nuova caserma si chiede un sito più idoneo alle esigenze ma il dipartimento nicchia il cantiere è fermo scuole strade ambiente ecco le criticità nell'Aquilano Avezzano Sulmona commissionava incendi e arrestato quasi sette anni di indagini da parte del nucleo investigativo dei Carabinieri dell'Aquila terrorizzava anche le sue vittime a Chieti a Megalò e Sosta Selvaggia sfilza di multe nel weekend tanti automobilisti hanno parcheggiato pure su entrambi i lati delle vie di transito stracolma anche l'area con le strisce blu peraltro occupata da una grossa giostra a Teramo giocatore senza squadra condannato il DS di Nicola processo per il mancato tesseramento di Ruiz Zenuni nell'Aquila Calcio 1927 il padre avrebbe pagato 28 mila euro per vedere il ragazzo scendere in campo inflitti nove mesi al responsabile dell'area tecnica e all'avvocato che avrebbe svolto la mediazione Asle e ancora black out le prestazioni nel caos i problemi nella frazione Villa Tofo chiede aiuto al sindaco d'Alberto e poi Prati di Tivo da stamattina si può anche sciare morto agli arresti in casa le cause sono un giallo Grimi ora premiare le eccellenze dopo i riconoscimenti per alberghi e camping Giuliesi il responsabile provinciale di Assoturismo si appella alle istituzioni ottimi risultati anche dalle scuole con uno studente del Liti finito alla Nase e un altro dall'alberghiero alla cucina di Vissania Roseto coppie che vogliono adottare figli via ai corsi e poi Giulianova direttore del museo civici confermato Sirio Pomante non faccia nomine Soldà li chiama a palazzo clamorosa polemica dei giovani diverso che annunciano da maggio ci sarà un solo dirigente siamo a Tortoreto turismo le proposte dei balneatori prosegue la linea indirizzata alla spiaggia per bambini ed eco friendly al Batur la promozione si fa all'estero e poi Libron James cena con il vino pepe 47 milioni di follower Pescara per la punta contro la rovescia pochi nomi disponibili ufficiale sottile oggi si allena al poggio degli ulivi Bellini arriva domani Gravillon ha fermato un quadriennale con l'Inter sono veramente felicissimo Sebastiani Belchiorri impossibile Ciofani solo se serve un'alternativa di valore in attacco per Pillon che insomma si sta giocando la Serie A Teramo Tegola Percelli il difensore salterà almeno tre partite oggi Campitelli dal comitato etico Polac soddisfatto per il debutto a Gubbio ho deciso assieme alla famiglia un mercato Lewandowski ormai ai saluti e poi calcio di Serie D Francavilla super e Racchini ringrazia Bartolini Avezzano si è riaccesa l'autostima del gruppo il trionfo a Notaresco scaccia gli incubi per allontanare i play out poi Volley Sieco senza Simoni due dure trasferte infine Notaresco tradito dalla difesa finora il suo miglior reparto e poi Giulianova pensa alla coppa e domani c'è il Montevarchi bene tutto per quanto riguarda il messaggero andiamo a sfogliare la città eccoci qua la prima pagina Crack Tercas verso la prescrizione dopo tre anni d'udienze l'impedimento di uno dei giudici fa ricominciare da capo il processo di primo grado e poi a Teramo tornano i big della politica teatro romano così tanta condivisione porta scelte sbagliate il calcio doppia sfida interna stadio Bonolis alleato per la salvezza del Teramo Abruzzo verso le elezioni Marsiglio e Legnini zero titoli per governare Sara Marcozzi e Parafrasa Murigno per attaccare gli avversari vogliono risolvere problemi che loro hanno creato a 54 anni leggiamo questa notizia curiosa perché Rocco Siffredi il re del porno è ancora appunto il re del porno perché a Las Vegas è stato premiato con tre Oscar dall'industria americana dei film per maggiorenni Crack Terkass il processo ricomincia da capo dopo tre anni e quaranta udienze l'impedimento del giudice all'atere fa scivolare il procedimento verso la prescrizione iniziato nel 2012 con le indagini tra circa due anni il processo dovrebbe essere ormai prescritto Salvini Meloni Berlusconi big del centro-destra a Teramo per Marsilio Asle il blackout digitale crea notevoli disagi i medici a Now segnalano problemi al pronto soccorso e si dicono preoccupati per i dati degli ultimi cinque giorni e poi isole ecologiche la prima forse a piano d'accio il comune non ha ancora preso una decisione definitiva su come abbandonare il sistema della porta a porta il sindaco a Villatofo per i problemi della frazione una sanità al passo con la società Anna Marcozzi presenta la sua ricetta puntando sugli investimenti in tecnologie e risorse umane aperti i termini per il rimborso dei libri intanto Anna O dona il numero verde alla Fenice oltre 100 adesioni per la cena in favore del centro antiviolenza di Teramo raccolta aperta anche questa settimana la CPO commissione pari opportunità propone un patto per le donne in politica i candidati presidenti teatro romano troppa condivisione porta a scelte sbagliate per l'ordine degli architetti adesso va rispettato il percorso concorsuale che ha selezionato lo studio Bellomo Demos chiede un dibattito pubblico con la partecipazione dei cittadini l'associazione ha proposto il referendum consultivo contrario ad ogni proposta alternativa la via maestra resti il progetto Carbonara del 2010 c'è l'intervento del professor Carlo Di Marco professore all'università di Teramo e presidente dell'associazione Demos appunto pradeditivo finalmente piste aperte da oggi siano tutti utilizzabili sia gli impianti della intermedia che il tapirulana per i freerider c'è la madonnina Andrea Guinsetti uno svincolo autostradale per aiutare i paesi dell'entroterra e poi il caso le convocazioni al consiglio inviate tramite posta elettronica il presidente dell'unione del medio umano Severino Serrani risponde alle accuse lanciate da due consiglieri dell'ente siamo in Val Vibrata riprende la battaglia dei tigli sulla SS 259 la 259 l'ANAS riparte con l'abbattimento delle piante ma si ferma dopo le proteste dei cittadini e delle istituzioni locali a Tortoreto iniziati lavori straordinari in via Moro e via Cimarosa siamo a Giulianova Mociano attacco frontale al commissario Soldà critiche di noi verso sulla selezione del funzionario dell'urbanistica gli asfalti non piace nemmeno la scelta di utilizzare gli introiti della tassa di soggiorno per rifare gli asfalti Sirio Maria Pomante è confermato alla guida del Polo Museale poi i candidati giuliesi del Movimento incontrano gli operatori turistici Bumerang Flaiani per il cittadino governante il mancato invito del candidato presidente ha dato maggiore visibilità al suo gruppo a Roseto tassa di soggiorno operatori turistici rosetani di nuovo sul piede di guerra non piace il ricorso del comune al consiglio di stato contro la sentenza del Tar Di Bartolomeo poche richieste di adozione a causa della burocrazia e poi sempre a Roseto i giovani geometri imparano il mestiere in comune strade al buio asfalti disastrati non solo pali cadenti tra i problemi del lungomare anche i blackout queste le affermazioni di Angelo Marcone della lista civica del Movimento Scelta Civica a Pineto terza la vince il concorso della giornata della memoria Silvi rimossi alberi aiuoli e aiuole per i lavori in piazza Nenni poi c'è l'ampia pagina dedicata alla cultura dal Monte Piton la città sembrava deserta e poi ancora appuntamento a teatro così l'azienda di famiglia diventò donna tutte a casa oggi e domani al comunale di Tenamo la commedia il femminile con Paola Gasman lo sport il Bonolis alleato per la salvezza due gare interne consecutive per rilanciare le ambizioni del diavolo c'è l'e-out tre settimane Maurizzi non ha un mancino di ruolo Ragneri sul piede di partenza e poi Giulianova quattro sberle ma domani c'è la coppa giallorossi sconfitti dalla Francavilla con il Montevarchi però c'è in palio la semifinale il basket Sharks la prima è ok ma domani c'è Forlì lo scontro diretto del Palamaggetti sorride ai Biancazzuri la settimana con tre impegni comincia dunque alla grande e poi blitz esterno della Torrese per quanto riguarda il campionato di eccellenza e preziosi pari per Alba e Pontevomano la Torrese che finalmente dunque vince una gara in trasferta in casa micidiale in trasferta un po' meno e tutto per quanto riguarda questa rassegna stampa noi ci concediamo una breve pausa poi ci faremo questa chiacchierata con il dottor Claudio D'Archivio parleremo di calcio non solo di settore giovanile l'impegno che finora ha profuso soprattutto per portare avanti un discorso legato proprio ai settori giovanili a Giulianova ricordiamo è stato presidente del Colleranesco ci fermiamo a tra poco eccoci qua nella seconda parte prima di tutto dedicata all'ospite il dottor Claudio D'Archivio buongiorno dottore buongiorno a voi allora dottor Claudio D'Archivio non è solo uno amante del calcio perché poi è anche il delegato dell'Accademia della Cucina di Teramo giusto? Accademia Italiana della Cucina della Cucina però parleremo anche in modo particolare di Teramo perché ci sarà una novità un libro una riscoperta uno storico perfetto ne parleremo tra poco allora dottor D'Archivio lei è ancora responsabile di una società di calcio che però lavora soprattutto nel settore giovanile questo le fa onore perché lavorare con i giovani insomma oltre ad avere un aspetto sociale interessante dà la possibilità anche ai ragazzi di divertirsi cioè a Giuliano un po' dopo il Giuliano dei tempi di Sandro Quartiglia il settore giovanile è un po' scemato si parlava di D'Archivio qualche anno fa di presidente del Colleranesco voi avete raggiunto se non vado errato il campionato di eccellenza promozione promozione c'era la possibilità poi ci fu quella retrocessione se non vado errato e l'anno successivo la collaborazione con il Giuliano con il reale Giuliano oggi come si chiama la società e quali sono gli impegni che state portando avanti ma la società si chiama SD Calcio Giuliano prima era soltanto Scuola Calcio 2011 2012 mi chiamarono per dare una mano alla Scuola Calcio di Giuliano per tre anni quattro anni è stata la Scuola Calcio tra l'altro vincemmo poi ci fu l'ingresso sempre della nostra società nel settore giovanile vincemmo il campionato provinciale dei giovanissimi ottenendo appunto il risultato di poter accedere alle regionali l'anno dopo e l'anno dopo ci fu la fusione con il Colleranesco di cui ricordava facciamo il primo campionato di prima categoria riuscimmo a vincerlo e fu promossi in promozione l'anno dopo purtroppo non fu così brillante come l'anno prima e ci fu la retrocessione c'era il logo della sua società prevedeva il colore giallo rosso e il colore rosso blu che era quello del Colleranesco era un bel logo a dimostrare questa collaborazione questa fusione con il Colleranesco purtroppo devo dire che questa fusione non è stata di fatto poi mai capita tra virgolette insomma dalla piazza benissimo siamo stati abbastanza osteggiati da questo punto di vista e poi si ricordava la frammentazione un pochettino del calcio Giulianova e il settore giovanile moltissimi ragazzi sono andati poi col Colonia poi è arrivata i piccoli giallorossi con un'altra scuola calcio insomma c'è stata tutta questa frammentazione le faccio una domanda ma questa frammentazione è dettata soprattutto da interessi economici o dalla voglia di portare avanti un progetto che sotto gli aspetti legati prettamente al sociale hanno un valore importante perché ma io penso che alla base di questa frammentazione ci sia stata la voglia la volontà di qualcuno di emergere in contrapposizione di altri perché alla fine è stato è stato questo insomma ma poi alla fine non si ottiene nulla benissimo infatti si è ottenuto il nulla perché oggi non c'è una vera scuola calcio non c'è un vero settore giovanile Giulianova come Giulianova meriterebbe ripeto noi abbiamo fatto quell'esperienza dovevamo decidere se riscriverci al campionato se fare la domanda di ripescaggio in promozione e fu l'anno in cui arrivò Bartolini con il Real Giulianova e ci fu questo accordo tre anni fa e ci fu questo accordo di dire ok benissimo Real Giulianova fa la prima squadra la SD calcio di Giulianova fa il settore giovanile i piccoli giallorossi fanno la scuola calcio la scuola calcio purtroppo con l'intento poi l'anno dopo di fonderci in un unico progetto Giulianova ricordo la conferenza stampa se non vaderà nella sede dei giuliesi per sempre giusto? nella sala consigliare del comune è vero nella sala consigliare ma c'era stata anche una pre-presentazione qualcosa nella sede probabilmente sì però io ero presente lì alla sala consigliare alla presenza del sindaco l'avvocato Mastromauro e via dicendo poi per tutta una serie di vicissitudini non si è arrivati a questa fusione e quindi ognuno oggi continua a camminare per la sua strada noi facciamo il settore giovanile soltanto quindi giovanissimi ed allievi con le categorie che sono un pochettino cambiate rispetto agli anni scorsi facciamo i campionati regionali stiamo lottando per accedere siamo lì a soglia per accedere alle fasi finali per il titolo insomma per il titolo regionale quanti iscritti avete? sono una settantina 70-80 iscritti di giovani talentuosi abbiamo avuto belle soddisfazioni alcuni ragazzi oggi giocano con il Real Giulio Nova in prima squadra in serie D quindi insomma c'è stato però non c'è stato diciamo quella conclusione del progetto che mi ero prefissato quando sono arrivato c'è un po' di amarezza nelle sue parole anche perché a Giulio Nova purtroppo questa frammentazione non porterà da nessuna parte perché per poter garantire poi un campionato a livello professionistico ecco la serie C che forse per il Giulio Nova potrebbe essere la sede ideale per portare avanti il calcio a certi livelli ecco questa frammentazione perché c'è anche la squadra dell'Annunziata c'è il Real Giulio Nova c'è questa frammentazione c'è anche il Cologna che pesca il Giulio Nova pesca il Giulio Nova c'è una dispersione anche di energie economiche assolutamente sì che alla fine insomma ognuno coltiva il proprio orto e finisce lì ci vorrebbe una figura sopra le parti che possa riunire un po' tutte queste forze perché come diceva è una dispersione di forze sia forze fisiche di persone che seguono il progetto ma soprattutto di forze economiche perché in un momento come oggi insomma in cui purtroppo non c'è non c'è il Sandro Quartiglia della situazione e allora riuscire a mettere insieme tutte le risorse economiche potrebbero portare a un progetto che Giulio Nova merita insomma per la sua storia calcistica Claudio D'Archivi è un terramano a Giulio Nova ha il suo studio medico diciamo questo diagnostico e fa appunto investe nello sport a Giulio Nova perché lavora a Giulio Nova sì io sono quest'anno l'anno scorso nel 2018 abbiamo festeggiato i 20 anni della mia presenza a Giulio Nova è iniziato il 1998 con un piccolo studio oggi la realtà è un pochettino diversa molto più grande io ho sempre detto io sono Terramano perché sono nato dalla provincia di Termo dentro Terramano di Colledara per la precisione vivo ancora a Colledara ma lavoro da 20 anni a Giulio Nova la città di una porchetta comunque ho amici soprattutto parenti che insomma fanno un'ottima porchetta però dicevo mi sento Giuliese di adozione perché sono 20 anni che i Giuliesi mi hanno adottato dandomi grandissime soddisfazioni e quindi con questa storia del calcio mi è sembrato di un dovere di ridare qualcosa alla città di Giulio Nova questo è il allora questo è un discorso interessante una bella chiacchierata questa mattina parliamo adesso di cucina perché? perché tanto lei ha sponsorizzato ha aiutato il dottor Alessandro Galantino ricordiamo uno storico a realizzare dei libri perché non è facile poi produrre cioè è vero che c'è il genio di uno storico di uno scrittore però poi bisogna anche produrlo il libro crearlo e lei ha aiutato insomma sotto questo aspetto abbiamo dei libri da questo punto di vista ci sono questo è straordinario bellissimo questo è sì un libro che ha fatto Sandro Galantino su Giulio Nova da scoprire personaggi storie e curiosità che forse non sai che abbiamo sponsorizzato poi per terminare la sponsorizzazione poi torniamo un attimino al perché c'è questo libro di autori vari curato dall'ottoressa Anna di Paolo Antonio della casa che salutiamo tra l'altro la conosciamo benissimo col senno di poi e soprattutto la cosa che mi fa molto piacere è quello di aver aiutato il dottor Marcello Mazzoni a produrre un libro La pietà e la cura che è la storia della sanità degli ospedali a Teramo me lo sono letto è molto molto bello perché parte proprio dagli antichi dal 1300 quando insomma la storia dice che c'è stato il primo nosocomio qui a Teramo per poi riportare tutta la storia degli ospedali e perché un privato alla fine sponsorizza un libro pubblico sanità pubblica perché le radici sono identiche la cultura è identica ma che si lavora nel privato che si lavora nel pubblico le nostre radici sono quelle la nostra storia la nostra cultura e allora aiutare la diffusione appunto delle nostre radici per me è fondamentale ed è il motivo per cui poi ho aiutato Sandro Galantini a produrre questo libro che è un libro storico un libro di cultura ricco anche di immagini bellissimo favoloso e ringrazio Sandro e ringrazio Giacinto Damiani di ricerca in redazione che ha poi curato la parte dell'editoria e poi perché ho sponsorizzato il libro del col seno di poi perché è un libro molto toccante fatto da diverse storie conosco purtroppo di patologia del seno parliamo del cancro insomma del cancro del seno assolutamente perché è la cosa di cui io ne vado fiero una battaglia della prevenzione perché la prevenzione è l'unica arma che si ha per sconfiggere il male solo se si arriva in tempo solo se si arriva prima della diffusione della malattia quando è ancora piccolino quando è ancora piccolino possiamo cercare di sconfiggerlo insomma quindi solo facendo una prevenzione quindi soltanto inducendo le donne a controllarsi solo in quel modo possiamo sconfiggere sconfiggere la malattia e così dice la resilienza è donna questo è il libro di Anna Di Palantone sì è un libro ripeto bellissimo con storie veramente toccanti che devono indurre le donne che ci ascoltano in età di diciamo prevenzione che poi non esiste non devono aver paura della prevenzione non devono fare come lo struzzo mettere la testa nella sabbia cioè non voglio sapere non vado perché non voglio sapere è un discorso assolutamente oggi inopportuno bisogna iniziare presto perché io non voglio fare terrorismo psicologico assolutamente però purtroppo esistono dei tumori giovanili per cui la donna deve iniziare un percorso di prevenzione prima con l'esame ecografico chiedo scusa per poi passare ad una combinazione mammografia ed ecografia e quindi continuare ogni anno anno e mezzo più o meno nella loro diciamo battaglia per aver il seno Dottor Darchio possiamo dire che comunque la prevenzione negli ultimi anni ha salvato moltissime vite assolutamente sì assolutamente sì oggi ripeto sono ormai 30 anni che faccio questo lavoro beh ho visto mentre prima vedevamo tumori molto avanzati ormai la donna veniva ma la signora da quanto tempo ha questo nodulo eh sono anni 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 che ce l'ho adesso mi sono decisa a fare qualcosa beh quello è un atteggiamento sbagliatissimo perché la donna purtroppo da lì a poco tempo andava incontro insomma a una fine non lieta invece ultimamente vediamo tumori sempre più piccoli sempre più piccoli quindi cerchiamo di scoprire no cerchiamo riusciamo a scoprire tumori non palpabili quindi la donna viene per un semplice controllo e si ritrova con un piccolo tumore ebbene quella donna eh quasi sicuramente riuscirà a vivere quindi come dico io a morire di vecchiaia e non di tumore e infatti questo ce lo dimostra il fatto che sono donne che io seguo ormai da vent'anni dalla dall'esterpazione del tumore stanno lì stanno benissimo quindi ripeto anche la chirurgia è cambiata perché io ricordo la mastectomia di un tempo oggi non viene eseguita più assolutamente no si è visto insomma che con la semplice quadrantectomia a volte anche con la nodulectomia quindi togliendo solo il nodulo quando appunto è molto piccolo e confinato si riesce a conservare l'estetica del seno e a fare la guarigione è chiaro che ha fatto bene ricordare non è soltanto la prevenzione ma è anche la terapia la chirurgia e poi la terapia sia chemioterapica che radioterapica che hanno avuto un effetto benefico sulla donna lei ha un'esperienza trentennale in 30 anni come sono cambiate le cose nella medicina oncologica diciamo che ripeto c'è stato c'è un'attenzione maggiore alla alla prevenzione ed ecco i progetti del seno sano progetto che è nato anche in Abruzzo cioè quello appunto della senologia che è il primo progetto nato a Firenze nel 1975 anche il camper che manda la ASL in giro perfetto anche il camper ha la sua funzione oggi ci sono campagne di prevenzione per il tumore al colon campagne di prevenzione come è stato quello dello IEO di Milano del tumore del polmone campagne di prevenzione per il tumore della prostata insomma che sono poi alla fine i tumori più importanti quelli più diffusi quelli più letali tra virgolette e si è arrivati oggi ad un allungamento della vita notevole i casi ci sono i casi sono purtroppo in aumento non è il caso di entrarci sulle motivazioni però i casi ci sono ne vediamo giornalmente però casi che si possono risolvere tra virgolette perché appunto arrivare in tempo con la prevenzione soprattutto con le terapie sia chirurgiche che mediche dell'oncologia portano insomma ottimi risultati è interessante questa chiacchierata questa mattina perché come avete visto cari telespettatori stiamo spaziando dallo sport il calcio alla medicina e adesso approviamo anche alla cucina alla cucina allora intanto chiedo al dottor d'archivio è un'ottima forchetta? beh si vede cerco di sì è un'ottima forchetta mi difendo bene mi difendo bene soprattutto carne o pesce? beh dell'entroterra quindi amo più la carne ma non disdegno il pesce insomma anche come come cuoco tra virgolette mi difendo bene ai fornelli perché lei è il delegato lo ricordiamo sì sono delegato dell'Accademia Italiana della Cucina che è un'associazione nazionale un'istituzione culturale della Repubblica Italiana fondata da Orio Vergano nel 1953 che ha lo scopo di tutelare la cucina la tradizione la tradizione della cucina italiana in Italia e nel mondo e infatti il diciamo il simbolo dell'Accademia sono le tre T territorio tradizione e tecniche originali che non hanno nulla a che vedere con i programmi di cucina tipo Masterchef che cercano un po' una cucina gourmet rivoluzionata fusion eccetera qui invece c'è proprio la ricerca dell'antica ricetta del rispetto della tradizione sull'uso degli ingredienti io sono un appassionato a me piace cucinare soprattutto il pesce e quindi sono molto molto curioso sotto questo aspetto vogliamo svelare che cosa accadrà prossimamente appunto diciamo che in questo modo andiamo a riunire un pochettino quelle che sono le mie iniziative in campo editoriale tra l'altro come gruppo medico abbiamo messo su una piccola rivista Ippocrate dintorni una rivista appunto di medicina ma non solo anche di arti di cultura perfetto che sono tre anni che editiamo come gruppo medico e è quello appunto di essere delegato dell'Accademia Italiana della Cucina si possono combattere alcune patologie chiedo scusa se la interrompo con il cibo assolutamente sì assolutamente sì e se le vede nella diciamo nei programmi di prevenzione quasi tutti partono da una buona alimentazione anzi da un'ottima alimentazione quindi alcuni cibi e qui ci risiamo territorialità prodotti a chilometro zero i famosi prodotti a chilometro zero prodotti di stagione sono quelli più più importanti salutari salutari e appunto per questo motivo insieme a a Giacinto Domiani di ricerca e redazione insieme al professor Cipriani che è stato amico del professor Rino Faranda e insieme alla professoressa Alessandra Gasparroni antropologa con anche i contributi del sottoscritto abbiamo deciso di rinnovare quello che è stato il contributo di Rino Faranda per la gastronomia italiana Rino Faranda di origine napoletana è arrivato a termo negli anni 60 come docente di latino un grandissimo latinista e poi si è appassionato alla gastronomia taramana tant'è che ha scritto diversi libri sulla cucina tipica taramana e quello che vogliamo fare oggi è ricordare Rino Faranda attraverso le sue ricette ma soprattutto per ricordare che la grandissima cucina taramana perché questo non lo scopro io insomma le bondà dei prodotti della cucina taramana vantata soprattutto a livello nazionale di riportare in auge delle antiche ricette che sono eccezionali io possiamo citarne alcune per esempio ci sono vabbè i maccheroni alla chitarra classici che purtroppo oggi non vengono fatti più sì spaghetti alla chitarra ma la chitarra dov'è? non c'è più la chitarra non c'è più la massaia che fa che fa la chitarra lo strengare perfetto nel leggere le ricette tutte le ricette prevedono l'utilizzo della massaia che fa l'impasto quindi fontana la fontana di farina dove mettere le uova poi cominciare ad impastare in tutte le ricette antiche c'è questo aspetto che oggi purtroppo non c'è più per tutta una serie di di comodità si va la pasta all'uovo però lo spaghetto classico alla chitarra secondo me si dovrebbe chiamare in modo diverso perché non è più fatto la chitarra ma la tradizione ce lo impone oppure l'igranit per esempio una pasta particolare che io non ho visto più realizzare il timballo il timballo lui parla di timballo di sfoglie che poi è quello che volgarmente chiamiamo lasagna ok e il timballo invece di crepe classico il timballo la terramano e lui lo fa in due versioni rosso e bianco e poi scrive quindi non è un'eresia avere due timballi rosso e bianco no lui ne parla timballo bianco e timballo rosso e poi la cosa più bella che lui ha fatto oltre a lui ha fatto un libro sulla cucina sulla gastronomia cucina tipica terramano poi ha fatto tre libri sulle vallati quindi la vallata della valvibrata la vallata del delfino è la vallata del vomano in pratica e fa un itinerario all'interno di queste di queste vallate quindi va alla ricerca di piatti tipici e ci sono diverse diverse specialità tra virgolette e per esempio mi viene in mente adesso il tacchino la canzanese non devo scoprirlo io ma soprattutto una valvibrata a nereto la capra alla neretese e il tacchino alla neretese che ho avuto con l'accademia nella fortuna di andare ad assaggiare perché abbiamo fatto una conviviale a nereto in un ristorante di nereto tra l'altro una trattoria dove si è mangiato benissimo e ho scoperto il tacchino della neretese e me ne sono veramente innamorato perché è un piatto eccezionale non l'ho mai sentito neppure assaggiare è una specie di tacchino dottore è un piacere rivederla ed ascoltarla ho sempre creduto che quello sia un salotto per lei naturale e salutiamo il nostro direttore Walter Cori ciao buongiorno direttore è un fatto arrosto fatto arrosto con del lardo che aiuta a insaporire a insaporire e a immorbidire un pochettino la carne rosmarino un po' di di limone buccia di limone e lo si cuoce intero dopodiché mezz'ora prima della cottura si fanno i pezzettini si rimette al forno ed è un piatto veramente eccezionale l'ho rifatto a casa perché mi piace cucinare per cui me lo sono rifatto a casa ed è veramente veramente buono per dire ci sono alcune alcuni piatti alcune realtà che stanno ancora di più a dimostrare della bontà della nostra cucina quando avremo modo di leggere il libro su faranda il libro sarà uscirà il 29 marzo perché alla sala polifunzionale della provincia ci sarà questo lancio del libro ripeto io l'ho fatto sia come gruppo medico sponsorizzato ma soprattutto come delegato in cui appunto sarò parte integrante nella realizzazione del libro e ci sarà questo pomeriggio dedicato al professor faranda quindi lo ricorderemo con l'uscita di questo libro che sarà appunto i contributi antropologici di Alessandra Gasparroni un ricordo bellissimo che ha fatto il professor Cipriani di Rino Faranda e poi sceglierò alcune ricette da mettere su questo nuovo libro per far sì che ok un contributo al professor Faranda ma soprattutto un contributo alla cucina teramana perché diciamo i piatti gourmet le stelle Michelin vi dicendo ok oggi oggi è tutta immaginazione oggi mangiamo con gli occhi oggi dobbiamo vedere la bellezza è tutto però un bel piatto di spaghetti alla chitarra un bel piatto di tacchino alla canzanese o le mazzarelle queste cose che noi insomma abbiamo visto da piccoli e rivederli oggi in cucina per me è fantastico abbiamo visto fare dalle nostre mamme dalle nostre nonne e oggi purtroppo nei ristoranti si sta perdendo un po' soltanto in alcuni casi Faranda ha mai trattato la pasta e fagioli con le cotiche sì 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 ci sono non mangio pasta e fagioli con le cotiche da 20 anni forse credo ma sì oggi è demodè no c'è chi mangia stasera pasta e fagioli con le cotiche no mangio boh non lo so non mi viene in mente ma anche perché non mi vuole venire in mente mi sono imposto purtroppo di non andare mai negli stellati a mangiare tra gli stellati perché sinceramente non non ne vedo c'è cosa hanno di tradizione di cultura questo proposito il 15 giugno l'Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Termo compie 50 anni ci sarà il cinquantennale e sto preparando un convegno sulla cucina terramana ieri oggi e domani cioè quello che era ieri lo sappiamo dalle storie quello che oggi lo viviamo quotidianamente ma il mio pensiero è quello che sarà domani perché sulla base di queste innovazioni tecnologie particolari infatti adesso devo ancora invitarli chiederò a dei professori delle scuole sappiamo la Crocetta di Poppa nell'ambito della provincia di Teramo scuole alberghiere appunto che cosa prevedono per lo spaghetto cioè la domanda che farò è questa nel 2040 2050 lo spaghetto alla chitarra con le polpettine come sarà fatto allora è bellissima questa chiacchierata questa mattina il tempo è scaduto però voglio rubare ancora qualche minuto allora si parlava di ingredienti di qualità stagionali soprattutto quindi verdura in modo particolare frutta e verdura di stagione perché poi garantiscono l'apporto necessario di vitamine di nutrienti proprio stagionali insomma per il benessere del nostro corpo l'olio l'olio extravergine d'oliva no si dice basta un cucchiaino da caffè eccetera in realtà c'è una riscoperta completamente diversa dell'olio extravergine d'oliva o mi sbaglio cioè se il prodotto è di qualità cioè parliamo di un prodotto locale quindi delle nostre cultivar e non di oli miscele che arrivano dal nord Africa o da altri paesi quanto conta il consumo perché poi parliamo di polifenoli importanti no si è importantissimo ripeto nelle nelle leggendo le le ricette del professor Faranda lì si utilizzava moltissimo lo strutto il lardo perché insomma a quell'epoca era così l'olio ce n'era poco io oggi non dico che bisogna utilizzare lo strutto il lardo per l'amor di Dio anche per una questione di colesterolo perfetto però l'olio di oliva sì appunto appassionato di cucina sto mi documento un pochettino e vedo per esempio che oggi le ricette dei dolci prevedono tutti l'olio di semi e mi sono fatto domanda perché ho provato ad utilizzarlo effettivamente il prodotto viene meglio perché è più leggero ma la qualità dell'olio di oliva cioè un'insalata con un po' di olio di oliva nostrano delle nostre terre perché quando negli anni 90 mi sono interessato un pochettino a questo saspetto io ho avuto il frantoio mio padre aveva il frantoio quindi ho lavorato le olive so che cosa significa lavorare le olive e l'olio della nostra zona parlo della nostra zona un pochettino dell'entroterra quindi altitudine intorno ai 400 450 metri perché poi oltre i 500 metri l'olivo comincia a soffrire un attimo sì vero beh quell'altezza e quindi parlo di collegare dintorni isola castelli e vi dicendo l'olio che abbiamo è uno dei migliori in assoluto in Italia non viene attaccato dalla mosca della mosca rarissimo rarissimo anche se ultimamente purtroppo ci sono delle stagioni come quella passata in cui però soprattutto sulla zona costiera mentre nell'entroterra è un pochettino più preservata soprattutto quando due anni fa dopo la tremenda nevicata e non la ricordo del 18 gennaio quell'anno è stato un anno eccezionale per la cultura soprattutto per la qualità dell'olio forse quest'anno potremmo avere nella produzione 2019 sta facendo un pochettino l'inverno tra virgolette per cui speriamo c'era meno uno partendo sono arrivato e insomma c'era un bel Dottor Dalchivio io la ringrazio abbiamo superato il tempo massimo per questa bella chiacchierata sappia che la inviterò nuovamente soprattutto a ridosso della presentazione del libro su Rino Faranda perché insomma le ricette della tradizione mi interessano tantissimo ma penso che interessino anche ai nostri telespettatori io la ringrazio per essere stato ospite questa mattina un uomo a 360 gradi sport, medicina cucina insomma cerco di riversare sul territorio quello che il territorio mi ha dato ecco la ringrazio per questa frase ringrazio Gilberto Marinozzi questa mattina in regia vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle ore 14 la prima edizione del telegiornale di Teleponte io vi ringrazio ovviamente per l'attenzione nuovamente vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci il telegiornale per la visione